È stato sentito dai carabinieri il 35enne marocchino ricoverato all'ospedale di Treviso dopo essere stato accoltellato martedì sera in centro a Derzo e rinvenuto in una pozza di sangue davanti al bar l'incontro dove verosimilmente si è trascinato dopo essere stato ferito. Ha riportato diverse lesioni da taglio al viso e al busto ma ora è fuori pericolo. Ha parlato con i militari dell'arma fornendo una versione piuttosto confusa dell'accaduto. Due gli episodi sui quali si stanno concentrando gli investigatori per risalire all'autore e alle ragioni dell'accoltellamento. All'inizio della serata il marocchino già noto alle forze dell'ordine per tossicodipendenza, furto e resistenza pubblico ufficiale ha incontrato una persona italiana con la quale si sarebbe intrattenuto in un altro locale del centro di Derzo. L'uomo è stato rintracciato e sentito dai carabinieri. Si stanno poi cercando eventuali relazioni con un secondo episodio sempre martedì sera verificatosi in un negozio di kebab dove una discussione molto accesa tra diverse persone è finita in lite. Tra queste persone potrebbe esserci anche il 35enne. Le indagini continuano anche con l'ausilio delle immagini e delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private della zona. L'episodio ha destato non poca preoccupazione a Derzo tra cittadini ed esercenti allarmati per la violenza ed il fatto che sia avvenuta poco prima delle 11 di sera in pieno centro. Grazie. Grazie. Grazie.